Il neglet è presente anche nei ricordi, ora al di là di questo titolo un po' catchy, si tratta della domanda che si sono posti Bisiac e Luzzatti nella loro ricerca riguardante il neglet, non solo relativo alla percezione diretta dello spazio di sinistra, ma anche alla rappresentazione dello spazio. Che cosa hanno fatto Bisiac e Luzzatti? Hanno chiesto a due soggetti, con un'emiplegia sinistra e con un neglet clinicamente conclamato, di immaginarsi a Piazza del Duomo. Questi due soggetti erano nativi di Milano e quindi conoscevano molto bene questa piazza. Alla prima volta hanno chiesto a questi soggetti di immaginarsi nel lato della piazza con il Duomo di fronte a loro e gli hanno chiesto di descrivere tutto quello che si ricordavano. E loro che cosa facevano? Descrivevano tutte le cose che stavano alla destra della piazza, omettendo la maggior parte dei dettagli di sinistra. Poi i ricercatori hanno chiesto a questi soggetti di posizionarsi mentalmente nel lato opposto della piazza, quindi con il Duomo alle spalle, e gli hanno chiesto di ricordare tutti i dettagli della piazza. Stavolta i soggetti che cosa facevano? Descrivevano ancora tutti gli elementi che stavano sulla loro destra, omettendo quelli di sinistra, ma stavolta gli elementi che si trovavano sulla destra, essendo loro posizionati nel lato opposto, erano tutti quegli elementi che avevano omesso la volta precedente. E questo è un dato molto interessante, soprattutto per noi che ci occupiamo di riabilitazione, in quanto il neglect sembra non essere un disturbo legato alla percezione diretta dello spazio di sinistra, ma anche alla rappresentazione dello spazio. E perché una ricerca come questa può essere importante per noi che ci occupiamo di riabilitazione? Perché noi aiutiamo i nostri pazienti a migliorare il movimento. Bene, migliorarlo all'interno di uno spazio. Che ogni movimento che eseguiamo, anche l'azione più banale, quella di grattarsi la fronte, viene precedentemente programmata nella nostra testa. Avviene una rappresentazione di questa azione, del movimento del nostro corpo, all'interno di uno spazio. Ora però, se questo neglect non è un problema riferito alla percezione diretta di tutte le informazioni che provenienti dallo spazio di sinistra, ma anche nella rappresentazione di queste informazioni, incluse quelle spaziali, beh, allora ci rendiamo conto che il problema del movimento del paziente che ha un neglect potrebbe non essere solo riferito alla difficoltà di muovere direttamente delle parti del corpo, ma anche quelle di includerle in una rappresentazione fatto di uno spazio completo. E questo ci aiuta anche a comprendere la necessità di includere nei nostri esercizi degli strumenti quali l'immagine motoria, ovvero la capacità del paziente di poter prevedere gli effetti del proprio movimento all'interno di uno spazio fisico, in modo da non interagire direttamente solo sul corpo, di non interagire solo sul movimento, ma anche sulla rappresentazione dello stesso. Se conoscevate questo studio commentate pure, oppure se ne conoscete degli altri su questo argomento scrivetelo nei commenti.